Oggi vi presentiamo un prodotto innovativo, il mini congelatore 31 litri della Sirge. Le caratteristiche che lo distinguono rispetto agli altri prodotti in commercio è sicuramente la doppia funzione, cioè consiste avere un congelatore che può essere utilizzato solo o come frigo o solo come congelatore attraverso questa semplice manopola all'interno dove noi possiamo posizionare la manopola in modalità frigorifero, quindi avremo una temperatura che va da 0 gradi a più 10 gradi oppure spostando la manopola in modalità congelatore una temperatura che andrà da meno 10 gradi a meno 23 gradi. Inoltre le altre caratteristiche che lo distinguono sicuramente sono le dimensioni ridotte. Abbiamo una larghezza di 47 cm, una profondità di 45 cm e un'altezza di 51 cm. Inoltre è dotato della classe energetica A++ che è stata riclassificata in E, secondo le normative, ha un basso consumo energetico 60 W, quindi pari a una lampadina, è stato costruito secondo le normative europee e internazionali. Inoltre ha un basso rumorosità 39 dB, ma una cosa fondamentale è la porta reversibile, cioè consiste nella possibilità di cambiare l'apertura della porta. Può essere quindi questo prodotto utilizzato come integrazione o come congelatore o come frigorifero da casa oppure utilizzato nelle seconde case come al mare o in montagna dove lo spazio è ridotto. Per chi è indicato? Sicuramente per i nostri amici camperisti, per l'ufficio, per gli studi medici o veterinari, nelle camere di albergo o hotel o bed and breakfast, per gli amici del mare, per le loro barche. Inoltre può essere utilizzato per tutte quelle aziende che fanno allestimento fiere, aziende di catering, centri benessere e case di cura. La Sirge fornisce inoltre un'assistenza gratuita telefonica dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30, un servizio WhatsApp sempre attivo H24 e una consegna espressa in Italia dalle 24 alle 48 ore. La garanzia è di 24 mesi, all'interno ci sono questi accessori in dotazione, in più istruzioni sia in italiano che in inglese all'interno del prodotto, doppio imballo, se necessitate istruzioni in altre lingue basta che le richiedete in ufficio. Quindi, perché non approfittare della promozione in corso? Visita il nostro sito www.sirge.it per scoprire tutti i nostri vantaggi.